Allora qui facciamo una partita così per vedere un po' come si gioca da nabbi perché tanto non c'è nulla di male da fare che questa partita adesso proviamo a vedere se funziona questo programma di registrazione spero tanto ok iniziamo allora perdo tipo un'ora all'inizio della partita e adesso ovviamente mi ha messo in terza persona che si cambia con F2 no prima persona perfetto ok iniziamo ok abbasso un po' mi trovo questi tre stronzi davanti li butto fuori iniziamo a dirmi nob ogni volta dico nob è meglio perché il mio scopo era quello adesso che facciamo adesso si corro corro e boh entro qua dentro faccio un po' il giro tanto mi aspettavo di ammazzare qualche gente così adesso boom in bocca rimango incastrato davanti a un palo come un coglione il tizio dopo che ha risponato si deve lamentare perché è così rosicano i tempi è per questo che adesso metteremo tanto dai prendiamo i giubbotti dai ma si ancora più un nabbo dai allora qui mi fanno una bastardata però prima c'è con quello poi dire si vado addosso e ammazza se quanto rosica invece no arriva sto testa di minchia che ha pensato bene di uccidermi da dietro allora gli dico dai riprendiamo altri giacchetti così almeno posso andare nella mischia tanto starma c'è una portata di merda come si vederà qualche avanti qui che fa ah si ah ecco a proposito di portata invece qui lo becco tre colpi in faccia uno alla testa anche questo hanno rosicato veramente tanto che come volete vedere la chat questo in bocca al cortello senza problemi questo è il cortello pure però eh troppo lento sono stato quindi un po' rosico pure io perché anche a fare il nabbo c'è da rosicare no perché nonostante provi a fare il nabbo sempre c'è c'è sempre il rosic di non essere abbastanza nob da sparargli in bocca e qui invece viene il dubbio perché ho visto una cazzo di arma strana questa specie di pp9 passa tutta arrugginita rossa non so se mi rovede la texture se era d'oro c'è proprio una texture così però tutta arrugginita ovviamente lo manco iniziamo a vedere what the fuck che cazzo i vari su questo esce il braccio dal muro però ok e poi bah quest'arma mi rompe troppo arrugginita metto una boom cortella anche qui vaffanculo non parte e ci si rosica di nuovo perché qua c'è uno quindi ah c'è qualcuno invece no e siccome siccome sono un nabbo quando il colpo è facile non devo ucciderlo tipo questo addirittura mi sbuca alle spalle quindi niente qua vedo un nemico di cazzo i vari addosso invece pam mi prendo la caghetta che mi hanno sparato mi deconcentro e non so più dove sto allora qui non so se laggavo un po' però adesso che fa ah ok adesso qui io metto sempre la visuale un po' l'uncinata perché vedo la mappa utilizzo per vedere la mappa perché come ogni nobbo sa bisogna ambientarci solo con la mappa davanti a noi la gente non esiste non dobbiamo vederla qui mi rannicchio come un ebreo nascondendomi per camperare proprio al meglio camperare con ultima speranza è la cosa più nobile che potete fare soprattutto uccidere la gente così a buffo infatti shit camper coons abbiamo tutti i tipi ho sentito ormai questo tizio niente laggo e non ce la faccio primo colpo è arrivato l'altro troppo tardi è una partita andata pure abbastanza bene per essere che stavo campionando a bestia ma insomma non tanto campionare più che altro non ho band in questa zona non so perché mi mi desoriento e non so più chi sono adesso sono indeciso a fare cioè tipo natale pieno di nemici non so qual uccidere nel dubbio muoio ovviamente allora qui come al solito qui adesso provo a fare la cosa più bella cerco di scavalcare ma sbatto contro il muro allora offeso me ne vado per le scale e ho fatto pure bene perché glielo ho messo in bocca a questo adesso pam la rosicata del secolo se l'avessi ucciso però sono morto io quindi sono rosicato io adesso qui pam lo riammazzo comunque perché alla fine e qui decido boh di fare vandalismo contro un'auto ma mi ritorno indietro allora rifletto un po' e poi ci riprovo e niente l'auto non le fanno più l'auto di una volta che sono resistentissimi e quindi pam cerco di fare l'ultimo kill con una granata ma alla fine decido di farlo proprio da nabbo con un colpo di fortuna all'headshot linguetta perché alla gente erode brucia moltissimo e i peggio scritte borno e loser anche dalla dalla mia squadra però e alla fine boh striker sta facendo giusto le statistiche quel giorno e quindi questa è la mia partita da nabbo di una giornata solita thanks for watching